Occhi aperti e pronti al fuoco. Occhi aperti al fuoco. Occhi aperti al fuoco. Il motore sta fumando. Coracciato nemico colpito. Uno di meno. Non abbiamo penetrato la corazza. Non abbiamo danneggiato. Coracciato nemico colpito. Coracciato nemico eliminato. Coracciato nemico eliminato. Coracciato nemico eliminato. Coracciato nemico colpito. 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 E' un'altra cosa che si fa, è un'altra cosa che si fa, è un'altra cosa che si fa. Carro nemico panneggiato Carro nemico distrutto Carro nemico colpito Carro nemico panneggiato Carro nemico colpito Carro nemico Carro nemico Carro nemico Grazie a tutti